Ultime news dalla Giunta Comunale di Pordenone. Venerdì 13 luglio è stata discussa la delibera riguardante l'accettazione in dono del capitello devozionale con la Madonna col Bambino, attribuita a Luigi De Paoli, l'assessore alla cultura Claudio Cattarruzza. Oggi la Giunta Comunale di Pordenone ha deliberato l'accettazione della donazione da parte della ditta Costruzioni 3, che è la proprietaria del cotonificio di Torre, del capitello che è sito all'imboccatura della strada che porta il cotonificio. Questo atto è un atto estremamente importante, ci rende doppiamente soddisfatti perché da un lato acquisiamo un bene al patrimonio della comunità, ma d'altronde ci darà anche la possibilità di mettere in salvaguardia il dipinto della Madonna col Bambino, che è datato intorno a metà del 1860, e ci darà anche la possibilità di restituire alla comunità di Torre un luogo estremamente importante come luogo devozionale di testimonianza di un'epoca estremamente importante per questo quartiere storico della nostra città.